Per i 5 stelle scatta l'ora delle comunarie. Dopo lo scandalo firme false, le faide interne, le polemiche sui requisiti richiesti per poter prendere parte alla consultazione, le defezioni che hanno portato fuori dalla contesa alcuni protagonisti annunciati, tra i quali l'attivista LGBT Daniela Tomasino, il giornalista William Anselmo, il gestore di Cinemato Casa Massimo Di Martino, il movimento prova a ricompattarsi per lanciare la sfida al sindaco uscente Leoluc Orlando. Le comunarie sono aperte ai soli residenti di Palermo e prevedono la scelta di 40 candidati da inserire nelle liste per le amministrative del capoluogo tra 79 nomi. Ogni iscritto ha a sua disposizione 5 preferenze, intanto si muove qualcosa anche sugli altri fronti. C'è fermento all'interno del Partito Democratico, nonostante la scelta di rinviare ogni decisione all'inizio dell'anno nuovo. L'obiettivo è quello di giungere a una proposta unitaria e nelle ultime ore pare stia trovando sempre più consensi la possibilità di un'apertura nei confronti di Leoluc Orlando. Al momento si tratta di un'ipotesi, l'inizio del 2017 potrebbe riservare sorprese e colpi di scena.